Il giorno e la storia. Oggi è il 2 febbraio. 1990. Due killer uccidono Enrico De Pedis. 1935. Utilizzata la prima macchina della verità. 2007. Incidenti al derby di Sicilia. Ucciso Filippo Racite. Commenta il fatto del giorno Massimo Righi, direttore del secolo XIX. Buenos Aires, gli Xeneses del Sud America. Grazie a tutti.